Buongiorno! Buongiorno! Come ti chiami? Io so Targi! E io so Pesca! E te chi sei? I miei amici mi chiamano Joe, tu mi chiami Mr. Bastiani. Bastiano! Bastiano? No, no, Bastiano è un olfantino! Bastiano è un olfantino! No, no, Bastiano è uno di spadella, cuomo! Bastiano! Bastiano! Bastiani! Vabbè, Bastiano, Bastiani, se la vuole, buongiorno! Tu devi parlare meno e ascoltare di più! Mi sembra il caso! Mi cazzai? Va bene! Bene, cosa cucini stasera? Va bene, ci fa parlare due minuti! Allora, inizia Andrea e ti spiega un po' di orsi! No, guarda! Crostini neri, stracciatella, lingua, manzo, muscolo, gallina, mi sembra sufficiente! Moro! Ma che è nuoro? Stasera Ciccio, ma che è nuoro? Non nuoro, muoro nel senso! Ah, muoro! Allora, schiaffa! Muoro, no! Ma mangio quello che vuole, il mio problema! Poi se muori, ti dà da cancello, mi raccomando! Poi non è finita qui! Ancora, c'è le salsine belline pesantucce, guarda, maionese, salsa verde, aciccata o porri e per finire un bel cantuccino al vinsanto! Ma scusa, non mi rompo i denti qua! No, non te lo rompo il cantuccio, ti rompo io! Cattivi! Cattivi! Cattivi noi! Un gran bel piatto! Ah, bravo eh! Spasera! Ma è nuoro! Ma è nuoro? Vuoi essere nuoro? 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 No, perché devi finire le faccate, come sempre! Non uscire! E' come... E' come no, quello che ho visto in piedi l'altra volta! Spider Wix! Sì sì! È un po' di... Grazie a tutti.